Gianmarco Stefanetto, Rivarolese. Mister, io direi che un esordio migliore di questo non poteva esserci perché avete vinto contro una possibile rivale per le alte posizioni del girone. Sì, è vinto molto bene. Abbiamo fatto una bella gara, dovremmo essere più concreti sotto Porto perché è raro che una squadra così organizzata come la Torinese possa concedere 3-4 occasioni nitide come l'abbiamo avuta noi. È andata molto bene, abbiamo vinto una bella gara contro una bella squadra. Concordo con quello che è. Direi che sono partiti bene tutti, sia i titolari che anche i subentrati. Poi Rizzuto l'ha decisa con un gran gol. C'è qualcuno che ti ha stupito particolarmente in questo esordio? Sono molto contento, ho fatto una gara a Querio. La squadra si è mostrata insieme tutto bene. Ci siamo partiti con 5 fuori vuoti in campo. Poi per fare entrare Rizzuto ho dovuto scervellarmi o dovuto levare il nostro capitano. Con questi fuori vuoti è sempre un grosso problema. Sempre veramente, veramente bisogna fare molta attenzione a tutte queste cose. No, sono soddisfatto proprio della prestazione colore della squadra. Grazie mille mister. Prego.